Ci hanno fatto ricordare qual è il cuore, qual è la passione, perché la passione e l'entusiasmo di quello che ci hanno portati in Parlamento è quella passione e l'entusiasmo di quello che ci porterà a raggiungere nuovi risultati per i nuovi italiani. Ringraziamo tutti quelli che hanno organizzato la Mette dei Facili Dattori, è stata la prima prova sul campo, la capacità dal basso di riorganizzare, di rilanciare questo movimento, perché questo Paese ha bisogno del Movimento 5 Stelle, perché non si fermi il cambiamento, è una rivoluzione, è una rivoluzione gentile la nostra, è una gentile rivoluzione. Qualcuno dice che abbiamo dei toni moderati, bene, sì, forse è vero, saremo anche moderati dei toni, ma non siamo moderati nell'anima. Grazie a tutti!